Sono Fabio Ciriachi e sono qui per conto delle edizioni Empiria. La cassa di dirice Empiria nasce a metà degli anni Ottanta, si occupa prevalentemente di poesia ma ha pubblicato anche molta narrativa. Se ci sono delle cose di punta, oltre alle poesie di Anna Maria Ortese, ai libri di Amelia Rosselli, di Aldo Rosselli, una sezione che va molto è quella degli AICU, perché da 30 anni si occupa di un premio annuale aperto ai poeti italiani di composizione di AICU. I progetti futuri sono quelli di cercare di essere conosciuti dal più alto numero di lettori possibili, non attraverso la distribuzione, perché purtroppo per le piccole editore la distribuzione è un problema, ma attraverso promozioni, partecipazioni a fiere come questa, la Fiera del Libro di Torino.